No, non è una foto, è un video che stavi dicendo, che stavi dicendo per quanto riguarda... Ancora me le licenze, non a me, dal resto non a te. A te non mi inquadro. Ma la voce la riconosco? La voce! Stavamo dicendo che conviene fare le cose pulite, pagare le tasse. Non è mai studiato, è studiato anche cosa del genere.